Ok ok ok... Roger hai messo bene la telecamera? Eeeh, siiii? Roger, forse è meglio che la controllo io Roger, com'è che avrai fatto a non capire che la telecamera stava zoomando alla mia faccia? Io l'ho capisto, cato la tecnologia Mmmh, vabbè facciamo questo video dai Bene ragazzi, oggi vi spiego il video che ho fatto Avevo intenzione di completare queste due missioni Che a poche parole, farsi l'armatura e delle armi della fenice Posso dirvi che all'inizio pensavo che dovevo craftare tutte le armi ma in realtà solamente una ne basta E poi per l'armatura sono riuscito a poter prendere solamente un pezzetto e basta Vi dico solamente che ci ho poco dato che sono stufo della fenice Poi voglio dirvi altre cose, ma le altre cose facciamo una cosa Ci saranno scritto nella descrizione del video cosa volevo dire Vi dico solamente che saranno tipo come dovrei pubblicare i prossimi video Siccome ho cominciato da scuola Adesso cominciamo col video E' veramente quest'inte fa schifo Porco volosa le putte, mannaggia Ma sai qua Ma sei il vivo Ma il vivo non può... non può venire da me Non può venire da me Perfetto Eccovi Questa volta Facciamoci rispondere Questa bellissima bomba Ecco E va bene Figliato Figliato anche Figlia lasci Come stavo dicendo Figliato anche i secondi Aia Ok Tempo del gufone Nella peniche Eccolo Vedo Le linee dello sturdimento Ma il corso Gli ho assoluto la faccia Ma se la faccia Ma se il corso Gli ho assoluto lo sturdimento E va dentro Il suo corpo Con gli ho assoluto Lo stomaco Ok Ah Con l'effetto Comincia già a morire male No No Eh mamma Senti Mi boccone fritta Come cazzo Dele piglia E va bene Mi lanci E va bene Fammi un attimo Dele piglia Beh Basta La canna 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 Bocco Neffritto E la bomba E la bomba Che esplosero E' un momento più sbagliato Che poteva Oh Ok Cora distrutto Ma il becco Porco Neffritto Se è arrivato a 50 Ma porco Ho capito Capisco perché Se è arrivato a 50 Sono un coglione Ok Il becco non penso Porco Neffritto Per saltaropa E adesso Ci tocca Il secondo Che è ruggito La vicenda Che è ruggito Poi Dai Stavo facendo Lo stavo Per strudire No 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 Gatti Non dovevo andare avanti Scornatino Lo strudiamo Ovviamente A parte Qui c'è l'esplosiva E d'altra parte Io devo fare il giro Per molto tempo Strudiamolo Ecco Stavamo anche Il becco Ahia Ho preso Ah ok Ho preso Ho preso anche Quello grande Ok Ok Becco fatto No No Non vedo Un ca Eh Con effetto Fai il laser No Mi fai Mi bushi E anche la coda Adesso posso Spaccare qua Se ci fate Ok Pato Anche se Andà La lancia Di ghiaccio Non la volevo Attivare In avanti Che sono felice Dai Lo scatto Passa Non c'è Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Cosa Cavo è successo Perché Siete trasformato Da una parte All'altra Ok Faccio Tenere una cosa Ha fatto scattare avanti Pop Nel momento Sbagliato Che cazzo Mi hai fatto Ok 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 Questa volta Non ci sia nessun Cagnolino Che mi dite Non ci credo Ma ghiacciati Faccelo Ho ghiacciato Ho ghiacciato Il piccolo Ma non te E' una pesa Pia in giro Allora Dove la cazzo Lascia Eh no Che cazzo Faccio Porco Dai E pa Che cazzo Vente Non vedo Ho colpito Quello piccolo Ok Ho trovato Un nuovo cuccio Ti spieghi poi Te hai cucciato Le cavalli Te li tiri Ok Che coi E anche due Ci sono andati No Dai Stim Puck Dai Ahai Ecco Ma si gira In un millisecondo Oh Ecco l'acciaio Fatto Anche se Come l'ho Colpito E in quel momento Ho fuori Posso caer via Dall'antenna Ok Eh va bene Di solito Questo si rilancia Un po' A quel polo Distanti Aspetta Dove è lui Dove l'ho ghiacciato Come non l'ho ghiacciato È un cazzo Così morto Dai Ok 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 ahhh il secondo giorno qualcuno è finito questa missione non la completerò mai è stato da idroa di fare questa cosa può essere meglio che faccia un altro video dai porca e va va un brato ah mica ok cominciamo mi sa che però tra poco sta qualche dopo aver scopito un po' di volte ci provo a farlo con un'altra gente sperando incontra gente che tipo la elimina facilmente che non abbandona subito la prima battaglia ok salve faccio il numero non so quante volte ho ucciso dei tuoi però di sicuro voglio un attimino che ti dislevi manchetto no 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 te lo devi conficca da un'altra parte oh come e dai e la gente a poco te lo confico da un'altra parte anche io te lo dico subito a modo supposta ok la coda voglio la coda non il tuo ventaglio e ho mai passato a via l'estate non è fincavolato non voglio le zampe voglio la tua coda oh grazie questo è un'altra zampa e siamo tutti felici e bucchetti infatti è un po' più o meno meno per te ti odio dov'è la mia perché la mia coda dovrebbe esserci sviattato da se non beccarmi questo ho preso un fuoco però ok non avete a trovare di affrontarti ma sei l'unico di fuoco e forse riesco a farlo velocemente che prendi per il cu- l'ho fatto la striscia l'ho fatto i basetti a questo qui e mai devo sped- e mica adesso se mi si aggera il coso mi cazzo la bestia questo si è aggerato e che cazzo e non vi scodete siete presenti no beh che l'ho rinanzato non l'ho congelato un po' più ne qui adesso l'ho congelato e ok eeeh va beh eeeh scusi che cosa cazzo ok oh vediamo cosa mi capita oh cazzo di nulla e che cazzo e quindi io provo l'amato la lascia da parte e adesso vediamoci questa ascia ahhh allora finalmente ecco finalmente l'ascia della fenice ce l'ho messo non so quanto tempo ma finalmente ce l'ho eeeh sono qui per testarla perché pensavo che fosse una britta ma mi sa che devo spaccare una parte per fare perché infatti l'abilità dell'ascia è se ho un po' una parte devo sparare dei missili si capisce che non mi ricordo più oh ecco i proiettili eeeh vediamo devo prima spaccare più parti si ma porco un effetto non ho visto tutto bene va mia forza quell'altro ebbene e infatti per congraturarmi io faccio l'arma anche se non è stata un'concrotruzione ma vabbè e sono finalmente e sono adesso di guardo vedi cico l'ascia vorrei cambiare l'arma però vabbè ci proverò forse e io direi adesso di concludere quel video siccome sono c'è un po' malatino e qui diciamoci che vi faccio un bel salutino velocemente ovvio ciao e poi fai il salto ciao ciao Grazie a tutti.